Allora, la degustazione sta andando molto bene, abbiamo avuto un afflusso di più di 220 persone, sicuramente il primario posto è stato per la bollicina, il pino nero dell'oltrepo e della cantina Guerci, nella versione 2.2.2, soprattutto nella versione Croisè. E una forte curiosità per l'ultimo arrivato che è lo 0.0. Il cavallo di battaglia della cantina, stiamo parlando del vitigno principe dell'oltrepo pavese per quanto riguarda la spumantizzazione, quindi parliamo di 100% pino nero, metodo champenoise, quindi metodo classico, con almeno 24 mesi sui lieviti. Come tutta la bollicina è sicuramente un vino molto versatile, uno spumante tutto pasto, ma particolarmente consigliato sia sugli aperitivi che sui primi piatti, anche un pochino più speziati. Con la fine, persistente e sicuramente molto gradevole al palato. Con la fine, persistente e sicuramente un pochino più forte, anche un pochino più forte, anche un pochino più forte. Grazie.